Ancora una volta, semplicemente, una brutta Juve Caserta, potremmo dire la solita Juve Caserta. Iniziano forte i bianconeri che piazzano il primo parziale di 10-2, dando una giusta impronta al match. I più ottimisti elogiano Bowers, inarrestabili, assieme a Williams, nei primi 5 minuti di gioco. I più sognatori, invece, danno uno sguardo ai risultati dagli altri campi, sognando appunto la griglia play-off. Tutto vano, Teramo sa di giocarsi l'ultima chance per la salvezza e la reazione non tarda ad arrivare. Tripla di Zoroski, gran giocata di Delefuente e la banca Tercas entra in partita. Fulz e Diner bersagliano dalla distanza, Zoroski conduce letteralmente i suoi. Quando Williams non c'è, Fletcher fa ciò che vuole nel pitturato. All'intervallo, il punteggio dice 44-30, per di belle compagni, si prevede una lenta agonia. Al rientro, l'arcobaleno del play Zoroski pesa tantissimo. L'unico a crederci è Coach Sagripanti, che chiama la zona 2-3 e sostiene i ragazzi. L'incintamento del tecnico, però, non arriva a destinazione. La Pepsi è inconsistente, la difesa praticamente nulla. Davis schiaccia due volte in transizione, umiliando il reparto lunghi casertano. Sotto, costantemente di circa 20 punti, anche l'inferno contesta duramente i propri beniamini, che non vanno più al rimbalzo e disonorano la maglia. La cronaca dell'ultimo quarto della partita vale davvero poco. Contano, invece, i segnali di resa, di rottura con il pubblico, i liberi, sempre sbagliati, e la concentrazione che va e che viene. La banca terca si legittima il vantaggio con le triple dei vari Fulze e Zoroski, nonostante la Juve metta nel canestro qualche punto con Di Bella, Williams, Jones ed Ere, miglior marcatori tra i bianconeri con 19 punti. Termina 88-77, tra la gioia della squadra di Ramagli, per una salvezza, insperata due mesi fa, che settimana prossima, con successo a Bologna, rischia di concretizzarsi. Caserta si giocherà un incontro inutile contro Treviso, chiudendo un ciclo in un pala maggior, presumibilmente semivuoto. Grazie a tutti.